L'approccio della Guretta Verde di Rega Ambiente a Termoli è occasione per stimolare un dibattito su temi come quello della transizione green, quanto mai attuali? Basta vedere quello che è successo negli ultimi mesi in Italia. Non c'è dubbio, il tema è quanto meno attuale. La situazione che stiamo vivendo è una situazione molto grave. Molti dicono che quella attuale è l'estate più calda di sempre. Si alterna un grande caldo a bombe d'acqua come è successo in Lombardia, le alluvioni in Emilia Romagna. Se non si cambia c'è il rischio che ci siano fenomeni definitivamente irreversibili e questi fenomeni irreversibili cadranno soprattutto sulle spalle delle persone che vivono condizioni economiche e sociali di maggiore disagio. Si riversano sulle spalle dei lavoratori. In questi giorni si è costretti a non lavorare, a ricorrere alla cassa integrazione per l'eccessivo caldo. Quindi sono fenomeni che rischiano di diventare irreversibili e rischiano di scaricarsi in primo luogo sulle spalle delle persone che lavorano e delle spalle che vivono le condizioni di maggiore disagio. E allora bisogna cambiare. Bisogna cambiare come? Bisogna cambiare modello di sviluppo, bisogna cambiare modello produttivo fondato in primo luogo sulle fonti energetiche rinnovabili. Sole, vento sono le prospettive del futuro e possono costituire nuove filiere industriali e produrre nuove occasioni di lavoro e nuova qualità della vita. Questo è l'impegno nostro del sindacato, questo è il nostro rapporto con le organizzazioni ambientaliste, questo vuol dire parlare di futuro e vuol dire cambiare il paese, vuol dire cambiare le politiche economiche e sociali di questo paese.